Nell'avviso di vendita per la partecipazione all'esperimento d'asta viene espressamente indicato pena nullità dell'offerta, quale sia l'offerta minima al di sotto della quale non si può scendere nel formulare la propria partecipazione all'esperimento d'asta. Chiunque dovesse immaginare di veicolare un'offerta per un importo che sia inferiore a quella offerta minima verrà necessariamente e debitamente escluso dall'esperimento d'asta.